per questo vero e proprio pubblicato sotto accusa ci sono dei comporti chimici con cui tutti noi abbiamo a che fare quasi quotidianamente ci sono delle sostanze di superiore plastica che sono le tendine e dei tipo di infettante che bisogna di essere stesse cioè sono delle sostanze a bassissime attività però che strogetti come forse un uomo e un uomo questo provoca costantemente E' vero, comunque, il contatto con un tumore che non può aiutare a più vedere. Existe quindi il fattore alimentare che potrebbe essere determinante da un lato sull'infettività maschile che non risponde, dall'altro sull'omore discreta. Come avete ascoltato, il tumore del testicolo è facilmente diagnosticabile con un semplice esame, come altro. E' quindi importante rivolgersi al medico in caso di insergenza di sintomi come un rivolgamento del testicolo con la testa del volume testicolare, una sensazione di pesantezza nello scroto o un dolore sotto nella parte inferiore dell'addome o dell'indicine. Grazie ai progressi della medicina, oggi abbiamo a disposizione tecniche di chirurgia che permettono la rinunzione del nodulo tumorale singolo in modo da salvaguardare il testicolo che è passato veniva rimosso completamente. Siccome il tumore del testicolo colpisce i giovani e quindi i soggetti della fettile, come avete sentito, oggi si riguarda la più conservazione per la preservazione dell'attività. E' anche importante non sottopassare l'impatto psicologico della violenza di questo tumore che può condizionare la vita fisica dei pazienti. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito che vedete sullo schermo. E con questo è tutto e vi aspetto alla prossima settimana con un altro appuntamento consapevole. Buona vera. Buona vera. Buona vera. Buona vera.